Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca con l'operazione dei carabinieri di Pescara denominata Red Coffee. La compagnia dei carabinieri di Pescara ha smantellato un'organizzazione italo-romena specializzata nei furti di rame, sequestrati in mezzi e capannoni per un valore complessivo di 800 mila euro. Ci dice tutto nel servizio Paolo Renzetti. 25 ordinanze di custodia cautelare, sequestri di beni, sigilli a capannoni e ad oltre 25 mezzi tra auto, rimorchi e autotreni per un totale di 800 mila euro e sequestro di oltre 30 tonnellate di rame per un valore superiore ai 200 mila euro. Questi alcuni dei numeri dell'operazione Red Coffee, portata a termine all'alba di oggi dai carabinieri della compagnia di Pescara, che hanno smantellato un'organizzazione italo-romena specializzata nei furti di rame. Nel corso dell'attività d'indagine sono state arrestate 18 persone colte in flagranza di reato, mentre asportavano vari quantitativi di oro rosso. Abruzzo, Marche e Puglia le regioni interessate dai furti. Al vertice della gang c'era un italiano che fungeva da Deus, ex macchina dell'organizzazione. Abbiamo perseguito ben 5 associazioni, non erano soltanto una batteria, ma erano 5 batterie che erano dedicate al furto. Sicuramente del rame, che faceva un po' la parte da leone, quelli che erano i loro obiettivi, ma facevano anche furti nelle abitazioni, nei garage, nei negozi e quindi siamo certi di aver dato un colpo duro. Un'operazione durata oltre un anno, come è nata? Da dove è scaturito il tutto? Il tutto è scaturito da quello che ha la base di ogni cosa, il controllo del territorio. Una pattuglia di radiomobile una notte ha controllato un furgone guidato da un cittadino rumeno e nel controllarlo ha visto che era a carico di rame. Da lì chiaramente il sospetto, l'arresto di questa persona, il sequestro del rame e da lì sono iniziato una serie di attività tecniche di padinamento anche sul territorio che ci hanno consentito di sviluppare questi 12 mesi di indagine. L'operazione è conclusa o ci potrebbero essere altri sviluppi? Al momento l'operazione è conclusa, sicuramente noi abbiamo già internazionalizzato i provvedimenti restrittivi nei confronti delle 10 persone che sono sfuggite dalla cattura perché sappiamo che si sono già all'estero. Proseguiamo con la pagina della cronaca. Truffavano i clienti proponendo in affitto per i periodi estivi sui portali e-commerce appartamenti super accessoriati fronte mare a Tortoreto ed Alba Adriatica in provincia di Teramo chiedendo il versamento di caparre del 30-40% su carte prepagate per somme che variavano tra i 1.000 e i 3.000 euro a seconda del periodo scelto. Una volta sul posto i turisti però trovavano ignari proprietari o legittimi affittuari laddove avrebbero dovuto invece trascorrere il periodo delle vacanze. I carabinieri di Tortoreto e quelli della compagnia di Alba Adriatica hanno denunciato 12 persone di Torino, Reggio Emilia, Napoli e provincia per truffa aggravata identificando nel contempo circa una settantina di turisti di Teramo, L'Aquila, Roma, Napoli e Milano colpiti dal raggiro e che avevano versato le somme in anticipo su carte poste pay. Andiamo adesso all'Aquila dove c'è stata paura nella notte per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 avvertita distintamente dalla popolazione. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. All'Aquila torna la paura per il terremoto. Ieri sera infatti alle 23.41 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia una scossa di terremoto di magnitudo 3.2. Una scossa che la popolazione ha avvertito distintamente e questo sia nella zona ovest della città che nella zona est tant'è che sono state diverse le telefonate registrate dal centralino dei Vigili del Fuoco anche dopo 20 minuti dalla scossa. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone e cose. L'epicentro della scossa è stato localizzato tra le frazioni di Termine e Ripa nel comune di Fagnano ad una profondità di 9 chilometri ma come dicevamo la scossa è stata avvertita anche all'Aquila e in tutti i comuni del circondario anche negli appartamenti del progetto case. E come sempre accade la scossa viaggia nel web e sui social dove si arriva prima a volte rispetto ai siti ufficiali. E adesso torniamo ad occuparci del caso Ryanair dopo la decisione del vettore low cost irlandese di lasciare l'aeroporto d'Abruzzo ad ottobre 2016 quando scadrà il contratto di servizio il centrodestra regionale chiede un consiglio straordinario. Sentiamo. Sospiri il problema del giorno, diciamo della settimana è quello relativo alla questione Ryanair se ne parla tanto in queste ultime ore tante questioni da risolvere voi avete chiesto un consiglio regionale straordinario per affrontare il problema. Ryanair ce l'ha con il governo Renzi che gli ha aumentato le tasse aeroportuali. Ovviamente Comune e Regione non è che possono far finta che questo non sia il loro governo nazionale e che se Ryanair va via dall'aeroporto d'Abruzzo chiuderà l'aeroporto d'Abruzzo perché nessun vettore europeo riesce a garantire 250.000-300.000 passeggeri. Ora, io non comprendo perché questa regione trova i soldi per finanziare l'Abruzzo Engineering 10 milioni di euro trova i soldi per garantire un ristoro di un ingiusto taglio alla sanità privata per 10 milioni di euro invece non si possono investire 5 milioni di euro superando alcune impugnative della Commissione europea per una infrastruttura che crea una ricaduta di 250 milioni di euro che causerà un problema lavorativo ad oltre 300-400 persone e che sarà una tomba per il turismo abruzzese Ryanair deve rimanere all'aeroporto d'Abruzzo altrimenti è meglio che D'Alfonso e Alessandrini se ne vadano da questa regione Quale potrebbe essere la via d'uscita? Si intavola una trattativa che da qui agli 8 mesi quando scadranno le linee già in prenotazione non deve portare allo smantellamento della base Ryanair ovviamente Ryanair è qui come in tutta Europa perché c'è una contribuzione ai voli che mette a disposizione questo è possibile già fino a una cifra di 2 milioni e mezzo di euro per la comunità europea c'è un delta di differenze e vanno trovato le soluzioni legittime affinché questo avvenga Ovviamente questo caso della Ryanair è un caso nazionale ed è approdato in Parlamento la decisione di Ryanair di chiudere le basi di Alghero e Pescara nonché l'aeroporto di Crotone rischia di determinare un pesante contraccolpo per le economie locali già particolarmente fragili e quanto rilevano Gianni Melilla deputato abruzzese di Selle Michele Piras in una interrogazione a risposta in commissione al ministro alle infrastrutture e ai trasporti crediamo continuano i due parlamentari di Selle che il governo debba riconsiderare la decisione di incrementare la tassa aeroportuale più o meno dello stesso tenore anche il movimento Noi con Salvini e Abruzzo che con il senatore Paolo Arrigoni che è responsabile per la nostra regione chiede al governo di contenere e quindi di prendere le misure necessarie le ricadute economiche negative sulla nostra regione andiamo andiamo ancora avanti con il giornale adesso ci occupiamo di sanità in particolare di quella aquilana il PD aquilano e provinciale si spacca sulla scelta del nuovo manager della ASL no alle guerre di Campanile dice il sindaco Cialente intanto Forza Italia lo attacca e lo invita a dimettersi ormai è scontro all'Aquila sulla nomina del nuovo manager della ASL Avezzano sul Monal Aquila una contrapposizione che in primis sta spaccando il PD aquilano e provinciale c'è chi preme infatti per un manager esterno e chi invece tra questi il consigliere regionale del PD Pier Paolo Petrucci per la scelta di un aquilano la decisione finale spetterà la giunta regionale che entro fine febbraio lo ricordiamo dovrà sciogliere il nodo ad oggi infatti dopo le dimissioni dell'ex manager Giancarlo Silveri i poteri sono esercitati dal direttore sanitario Maria Teresa Colizza in tutto questo il sindaco Cialente e la senatrice Pezzopane sono orientati sulla scelta di un esterno e in tutto questo ancora Avezzano e Sulmona vogliono partecipare alla scelta in pazza ovviamente il toto nomi in pole position spunta Antonello Maraldo attuale direttore provinciale INAIL di Teramo l'Aquila ma i ben informati parlano anche di Sabrina Cicogna primario del reparto di cardiologia del nosocomio aquilano e ancora Silvia Cavalli direttore amministrativo dell'ASL provinciale e ancora si fa il nome di Alessandro Grimaldi sembrerebbe questo il preferito da Pietrucci primario di malattie infettive il sindaco Massimo Cialente ha polemizzato con il capogruppo di Forza Italia Guido Liris che spinge per una candidatura aquilana come è noto Cialente ha spiegato che non ha senso fare guerre di campanile ma Liris non molla e oggi affonda di nuovo non staremo a guardare dice diretto al primo cittadino non vuole un medico alla guida dell'ASL si ribetta subito allora i consiglieri regionali di Forza Italia contestano apertamente il risanamento dell'agroalimentare annunciato dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso ed oggi in una conferenza stampa hanno spiegato i motivi di questa polemica ascoltiamo Febola Regione parla di risanamento per quanto il centro agroalimentare di Villanova dice Pagatti voi non siete dello stesso avviso perché? credo che in questa regione da un po' di tempo si raccontano le favole tante favole ripetute più volte ma credo che la gente non ha mai cominci a capire ci spiace dover smentire ciò che ci ha detto il presidente D'Alfonso perché speravamo che in questi due anni si risolvesse il problema del mercato ortofrutticolo perché è un bene che ha la regione Abruzzo che la regione Abruzzo non può perdere ed era un percorso che aveva iniziato e si poteva facilmente concludere mi sembra che in questo caso si sta solamente affossando il mercato agroalimentare perché l'unica operazione che è stata fatta è quella di assorbire una ditta che ha ben sette dipendenti e che faceva un certo tipo di servizi all'interno del mercato quindi si è aggravato il conto economico si è appesandito il conto economico dell'agroalimentare peraltro senza capire che lì la voce fortemente negativa dell'agroalimentare è costituita soprattutto al patrimonio che deve essere portato in ammortamento sul bilancio e porta sempre ad una perdita su questo bisognava concentrarsi e trovare la soluzione che era facilissima quella di riacquistare le quote a costo zero chiaramente perché doveva essere forza zero le quote degli altri enti che partecipano risolto quel problema l'agroalimentare può decollare qualcuno invece ha preferito fare un'altra strada vedremo dove porterà quest'altra strada ed ora parliamo di autostrade nel pomeriggio di ieri presso il comune di Prato La Peligna si sono riunite le amministrazioni comunali di Sulmona Prato La Peligna Raiano Corfinio Rocca Casale Prezza Vittorito Canzano Pacentro Campo di Giove Pettorano Sul Egizio Bugnara Introdacqua Cocullo Anversa Degli Abruzzi Villalago Escanno i sindaci nel ritenere il progetto di variante autostradale della 25 presentato dalla società autostrada dei parchi dannoso per l'ambiente per il progresso sociale ed economico del territorio hanno convenuto che entro il 15 febbraio riuniranno i consigli comunali che verranno chiamati ad adottare una delibera di contrarietà al progetto di variante con la delibera i 17 consigli comunali faranno formale richiesta al presidente della regione di attivare una conferenza dei sindaci che consenta agli stessi di partecipare al processo di rilascio dei pareri che la regione Abruzzi e il ministero si apprestano a dare sulla proposta avanzata dalla società che ha in concessione l'autostrada per le stesse motivazioni si procederà a richiedere un'audizione alle competenti commissioni parlamentari adesso ci occupiamo di banda ultralarga e di internet la regione Abruzzo infatti sta per dotarsi della fibra ottica pubblica saranno 70 milioni di euro a disposizione di questo progetto prende corpo il progetto di digitalizzazione della regione Abruzzo attraverso l'installazione in 93 comuni della fibra ottica che consentirà l'accesso alle imprese e alle famiglie abruzzesi alla banda ultralarga superando il cosiddetto divario digitale una connessione fino a 100 megabit resa possibile grazie a 70 milioni di euro stanziati dal Cipe e a realizzare l'opera sarà la Infratel sì finalmente anche in Abruzzo arriverà la fibra ottica di proprietà pubblica di proprietà regionale che consentirà agli operatori di telecomunicazione di offrire servizi a banda ultralarga dai 30 megabit fino a 100 megabit a tutti i cittadini abruzzesi di questi 92 comuni c'è una seconda fase che comprenderà ulteriori 34 comuni e infine quello stanziamento di cui ha dichiarato prima il Presidente si completerà per tutti i comuni abruzzesi il raggiungimento e gli obiettivi dell'agenda digitale europea di avere un servizio a 30 megabit per tutti i cittadini abruzzesi si realizza quello che il vecchio legislatore chiamava l'esecuzione a regola d'arte ci sono tutti gli ingredienti e soprattutto c'è un estremo bisogno di questo tipo di investimento se c'è come si è messo per iscritto questo straordinario atteggiamento collaborativo noi in breve tempo daremo a imprese persone e territori la connettività intanto l'opposizione apre una guerra di cifre sul progetto secondo Forza Italia i fondi sono un blef perché 25 milioni tolti all'agricoltura nel 2014 non sarebbero più a disposizione della Regione adesso abbiamo una notizia che riguarda i cinghiali l'Abruzzo possiede già gli strumenti che la Regione Toscana ha messo in campo con una nuova legge obiettivo sulla gestione degli ungulati continuiamo a lavorare per migliorare e perfezionare i regolamenti vigenti è quanto ha detto l'assessore regionale alla caccia Dino Pepe la legge approvata dalla Toscana prevede la suddivisione del territorio in aree vocate e aree non ha continuato Pepe la Regione Abruzzo è andata ben oltre con il calendario venatorio 2015-2016 è stata prolungata la caccia di selezione nel mese di gennaio e nel prossimo anno si pensa di prolungarla ulteriormente e non solo nelle aree vocate ma su tutto il territorio regionale venabile adesso parliamo dello stadio di Acqua Santa all'Aquila il nuovo impianto che ospiterà l'Aquila Calcio non potrà essere inaugurato prima della fine del campionato i tifosi rosso-blu sono contrariati mentre il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente spiega perché non è possibile eludere i tempi della burocrazia sentiamo l'intervista di Gianmarco Menga come è possibile risanare la ferita che c'è comunque anche nei confronti dei tifosi anche perché io non ho ferite nei confronti dei tifosi dopo 30 anni ho messo le mani su questo stadio ci sono stati tutta una serie di interventi per cui stiamo spendendo il Dio per rimetterlo a posto io i tempi sono questi se fossero tifosi un altro clima di tifoseria in Italia forse non servirebbero 100 telecamere mettere 100 telecamere parcheggi per gli ospiti questo è il mondo del calcio è gelo totale tra la tifoseria dell'Aquila Calcio e gli addetti al comune sulla data di apertura dell'impianto di Acquasanta che non riuscirà ad essere inaugurato prima della fine del campionato rimarrà quindi un sogno poter conquistare la salvezza nel nuovo stadio senza barriere a causa delle tempistiche burocratiche sull'affidamento dei lavori del sistema di videosorveglianza tra certamenti affidamento definitivo controlli e collaudi non si farà in tempo ad aprire lo stadio prima di maggio una grande delusione per i tifosi rosso-blu che dovranno così attendere la prossima stagione che hanno manifestato la loro delusione fuori la sede comunale con striccioni e un blitz nelle aule dove stava avvenendo l'incontro tra sindaco e società però assicura per il prossimo campionato perché non ci saranno deroghe per i fattori e l'Aquila non si vorrebbe riscrivere in Lega Pro scusate sì a meno che non esca un'altra legge che prevede che i parcheggi devono essere fatti con le barricate eccetera eccetera ormai noi non stiamo parlando di un campo di calcio parliamo di campi di guerra vogliamo dircelo o meno in particolare il nodo dell'ennesimo ritardo riguarda l'affidamento provvisorio dei lavori per il sistema di videosorveglianza che era stato assegnato il 13 gennaio la prefettura sta effettuando i dovuti accertamenti e dentro il 22 febbraio verrà effettuato l'affidamento definitivo da lì dovranno passare altri 35 giorni prima della stesura del contratto con la ditta vincitrice dell'appalto solo allora potranno partire realmente lavori per 30 giorni tra collaudi e controlli si arriverà quindi a giugno il supporter trust e la tifoseria organizzata avevano chiesto di accelerare i tempi sull'affidamento definitivo così da guadagnare giorni preziosi in attesa degli accertamenti della prefettura ma nulla da fare i tempi sono questi mettere le telecamere se hanno 20 giorni di lavoro mettere i seggiolini sono una settimana il tempo per farlo sono mesi e mesi io se anziché a novembre mi avessero detto queste cose del parcheggio se io l'avesse saputo a gennaio l'anno scorso saremmo accelerare adesso in chiusura della pagina di cronaca una notizia di servizio l'ANAS comunica che per consentire le operazioni di brillamento di un ordigno bellico coordinate dalla prefettura di Chieti sabato 6 di febbraio sarà chiusa la strada statale 652 Fondo Valle Sangro dallo svincolo per Fossacesia all'innesto sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Fossacesia per il tempo strettamente necessario alle operazioni tra le ore 9 e le ore 13 le deviazioni saranno indicate sul posto e adesso apriamo la pagina dello sport con una notizia che riguarda le designazioni arbitrali per la quarta giornata di ritorno del campionato cadetto Salernitana Pescara sarà diretta da Gianluca Aureliano di Bologna assistenti Avellano e Raspollini quarto uomo Sacchi mentre Vicenza Virtus Lanciano sarà arbitrata da Antonio Rapuano di Rimini assistenti Gori e Rocca quarto uomo Massimi parliamo adesso proprio del Pescara presentazione questa mattina allo stadio adriatico dei nuovi acquisti Biancazzurri noi c'eravamo vediamo Pasquato un gradito ritorno a Pescara volevi fortemente tornare in Abruzzo ti voleva fortemente il tecnico Massimo Oddo meglio di così non poteva andare si dai ho combaciato tutto alla perfezione sono veramente veramente contento è una cosa che desideravo tanto a giugno e che ho sempre sperato succedesse poi anche a gennaio sono convinto di poter far bene anche perché ho visto il Pescara giocare quest'anno veramente sta facendo cose straordinarie arrivo in un gruppo fantastico in questi due giorni ho avuto la possibilità di allenarmi con loro di stare con loro e posso dire che è un grandissimo gruppo dove bisogna correre come stanno facendo in questi allenamenti che sono durissimi però dai arrivo in un grande gruppo e spero di dare una mano non ho nessunissimo problema a mettermi in gioco e a portare la mia esperienza e dare una mano soprattutto al gruppo ma come ho detto prima è un gruppo forte è un gruppo che comunque anche quando ero a Genova vedendolo fuori come ho detto vedi anche nell'esultanza tutto il gruppo che esulta anche la panchina e questo è molto importante per un gruppo e io mi metto entro un punto ai piedi in un gruppo molto coeso e compatto come si vede e come ho potuto verificare in questi due o tre giorni poi le scelte le fa il mister nel senso io cerco sempre di dare il massimo per tutte le squadre che ho giocato ogni allenamento e cerco di essere a disposizione del mister poi è ovvio che si va in undici in campo nel senso siamo in 25 e vorremmo giocare tutti però la cosa fondamentale è che si remi tutti dalla stessa parte per l'obiettivo che penso che sia di tutti e andiamo avanti con la serie B per quanto riguarda la Virtus Lanciano è prevista per oggi attorno alle 17.15 la presentazione del nuovo tecnico del Lanciano primo Maragliulo ex vice di Baroni quando sedeva sulla panchina della Virtus e quest'anno allenatore della squadra della primavera intanto ieri prima dell'allenamento il patron Franco Maio ha incontrato la squadra per chiarire la situazione per dare l'avvio alla seconda parte del campionato che dovrà vedere la Virtus impegnata nella ricerca dei punti salvezza adesso scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo ieri la Lega Pro ha ufficializzato il posticipo del match di Coppa Italia tra Siena e Teramo che si giocherà allo stadio Artemio Franchi giovedì 11 di febbraio alle ore 15 anziché mercoledì 10 intanto la squadra bianco-rossa continua a preparare la partita di dopodomani a Savona sul momento del Teramo ascoltiamo il difensore Nebil Kaidi la classifica è importante relativamente perché noi dobbiamo guardare partita dopo partita senza porci limiti perché siamo in una posizione che ovviamente dobbiamo guardarci alle spalle però mi piace guardare anche davanti quindi dobbiamo cercare di guardare partita dopo partita senza andare oltre la partita di sabato ecco ci ho pensato senza dubbio a questa partita perché sarà una cosa particolare non so cosa mi verrà in mente quando arriverò lì però è un sicuramente è un ricordo indimenticabile e niente quindi però mai è passato e niente dobbiamo pensare a a sabato come se fosse una partita come le altre ecco è una squadra in forma è una squadra che in ultime giornate sta facendo ottimi risultati si è rinforzata e quindi è una squadra molto temibile e niente noi dobbiamo prepararci bene perché al di là di qualunque avversario affronti dal Pisa abbiamo visto fino al Savona sono squadre tutte organizzate che si difendono benissimo e quindi dipende da noi ecco sono arrivati giocatori importanti come Forte Cruciani poi anche un ragazzo nuovo che ancora non abbiamo conosciuto però penso che la società sa fare bene il proprio mestiere quello non tocca mai giudicarlo io sono contento dei ragazzi che sono arrivati perché sono ragazzi che ci hanno dato tanto entusiasmo e ci hanno dato quella spinta in più mentale che ci mancava magari perché loro vengono da fuori quindi sono arrivati veramente carichi e ci hanno dato una grossa mano in queste partite ed ora scendiamo in serie D perché questa mattina allo stadio Guido Angelini di Chieti è stato presentato il nuovo allenatore del Sodalizio Nero Verde Umberto Marino ex attaccante della Triestina dell'Avellino e della Fermana è stato il vice di Ivo Iaconi nel Frosinone ad Ascoli nella Cremonese nella Regina nella Triestina e Carrarese fino al Brescia lo scorso anno in serie B andiamo a vedere l'intervista ho trovato la squadra insomma come una squadra quando perde tre partite di fila sicuramente i ragazzi sono abbattuti però sono vogliosi di di recuperare ci hanno anche tutte le qualità questa squadra ha tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione un po' così e noi il compito mio e del nostro staff è quello proprio di di cercare di indicargli la strada meno impervia lo stiamo facendo i ragazzi stanno rispondendo alle sollecitazioni speriamo di poi di capirci il prima possibile perché poi tempo non ce n'è così tanto è una squadra che come penso la maggior parte delle squadre di questo girone ha dei pregi e dei difetti noi dobbiamo cercare di esattare i pregi e di nascondere più possibili difetti però io non penso che da come parla la classifica sono da 35 in giù sono le squadre secondo me sono molto simili magari le prime tre hanno qualcosa in più ma secondo me hanno proprio qualcosa in più sul piano della mentalità ed è questo che dobbiamo trasferire ai ragazzi è su questo punto che bisogna capirsi prima possibile è una partita dura perché è una squadra che sta sotto di noi viene da una vittoria dobbiamo in tutti i modi andare a fare punti non ci sono altre vie dobbiamo andare a Castelfità fare una grande partita sul piano della voglia cioè l'unica cosa che non dobbiamo sbagliare è la voglia l'applicazione a tutte le cose che si dicono di lottare su tutti i palloni tifosi io prometto solo il massimo impegno e spero di dargli una squadra di grandi lottatori poi dopo piano piano cercheremo di fare anche qualcosa di buono anche sul piano del gioco però il tifoso ti perdona tutto ma non che tu non finisca la partita con la maglietta da mettere in lavatrice che tu dia il massimo e lasci il cuore in campo adesso il ciclismo e agli sgoccioli il ritiro a San Vito Chietino del team Colpac una delle principali squadre italiane a livello dilettanti il noto ex ciclista abruzzese Leonardo Bevilacque da quest'anno è il direttore sportivo ed entra nello staff nel quale da anni lavora il fratello Antonio team manager ascoltiamolo nell'intervista di Andrea Costantini Leonardo Bevilacqua a San Vito Chietino per fare un po' gli onori di casa per accogliere la Colpac che ormai sono già circa dieci giorni che è qui per preparare una stagione come sempre interessante con tanti prodotti da lanciare del ciclismo che conta si hanno trovato un bel tempo si sono potuti allenare tutti i giorni si trovano bene in questa zona le strade sono libere e riescono ad allenarsi molto bene quanto è importante coltivare questi talenti e quanto è importante il lavoro di squadre come la Colpac che rappresenta l'elite nel campo del direttantismo noi siamo abruzzesi per noi è molto importante perché questo darà una certa linea anche una speranza ai corridori abruzzesi che avranno le qualità per entrare in questa squadra lo scorso anno se non ricordo male è passato anche Ciccone che è un prodotto dell'Abruzzo che ora ha la nuova strada del professionismo sì Ciccone è stato due anni con la Colpac praticamente si è messo in luce e certo per noi che siamo abruzzesi è un grosso onore speriamo che lui possa confermare le sue qualità poi noi con l'unione che abbiamo fatto con la Lampre praticamente nel 2017 saremo il vivaio della Lampre speriamo che Ciccone si mette in luce così potrà passare a una squadra pro tour è tutto per questa prima edizione del TG6 vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 19 invece tra poco alle 14 e 45 c'è il TG6 L'Aquila grazie ancora e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti